Ciao ragazze! Oggi sono modalità casalinga disperata, sto praticamente pulendo tutta casa, però volevo rispondere a questo commento. Ho visto un video in cui c'è scritto che una tentatrice, un tentatore guadagna dai 1.800 ai 2.500 euro al mese. In realtà non è così, perché i tentatori e le tentatrici vengono pagate giornalmente. Come molti di voi sanno, Temptation Island è registrato, quindi molte cose non le mandano in onda, tipo l'eliminazione delle tentatrici e dei tentatori. Ogni più o meno 2-3 giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici, cioè le persone, le tentatrici o i tentatori che non hanno interagito molto con loro e quindi vengono eliminate. E rimangono fino alla fine, quindi rimangono fino ai 21 giorni, le tentatrici o tentatori che hanno instaurato poi il rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Più o meno al giorno un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro.